Un salutone di un in bocca al lupo agli amici del Fezio alcuni minuti contati, mi dispiace moltissimo di non poter far parte della vostra squadra per lo meno quest'anno, come vedete sono in una camera di albergo, sto girando un film, sono fuori Roma, spero di poter recuperare magari il prossimo anno, quindi in bocca al lupo, buon tutto e viva alcuni minuti contati, ciao!